Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Mercedes Schengher e Eduardo Tavassi sono stati una coppia un po' particolare dell'Isola dei Famosi, adesso arriva la verità. Ad un disinteressato interesse della showgirl nei confronti del fratello di Gwendalina non ci ha mai creduto nessuno, eppure la storia è andata avanti tra alti e bassi. Adesso, è la diretta interessata a far chiarezza, decisamente una coppia tipica, soprattutto visti gli ex di Mercedes Schengher, ma Eduardo Tavassi pare ci abbia creduto fino in fondo e provato a portare avanti il loro rapporto. Soltanto di recente, il fratello di Gwendalina ha parlato circa il loro rapporto in un'intervista a Radio Radio, io e Mercedes abbiamo batti beccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedes la sento, l'ho vista ci siamo visti in un locale dove c'era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio, Mercedes Schengher risponde a tutti con la verità su Edoardo Tavassi. Dopo Edoardo Tavassi che si è pubblicamente esposto, sono arrivate anche le prime parole da parte di Mercedes Schengher che ha voluto chiarire tutto ai loro fan. Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risponde approssimative non vi soddisferanno mai. In più, Mercedes ha spiegato che entrambi hanno altro per la testa al momento, ho altro a cui pensare, ma mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvela. Come abbiamo fatto fino ad ora, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.